Ciao Paolo, ecco il mostriciattolo che suonerò con una Vic Firth, Peter Erskine, niente meno, campana. Di grosse dimensioni e assolutamente non martellata. Settiamo adesso dalla campana all'esterno. Crash praticamente cortissimo, bello scuro. Il profilo è un bello ombrello perché l'ho martellato abbastanza sotto, curva molto qui sul edge, sul bordo. Poggiattolo. Poggiattolo. Regal Tip Jazz punta con il legno. Poggiattolo. 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 È una figata. Poggiattolo. Poggiattolo. Poggiattolo.